Come hanno tragicamente dimostrato i fatti del 2016 e del 2017, che hanno provocato centinaia di vittime fra eventi sismici, alluvioni, frane, eventi meteorologici estremi, sostitza effettivamente la necessità di rivedere strumenti e dotazioni finanziarie dell'Unione che possano permettere di affrontare con maggiore efficacia questi fenomeni. Condivido la posizione assunta dal rapporter, laddove propone una maggiore sinergia tra il meccanismo unionale di protezione civile e i fondi strutturali. Aggiungerei anche la sinergia con il fondo di solidarietà, la cui normativa, come più volte ho detto in questa sede, andrebbe rivista sia in termini di allocazione finanziaria complessiva, sia in termini di velocità di erogazione e dunque a livello procedurale, e anche in termini di importo dell'anticipo. Attualmente è fermo al massimale di 30 milioni di euro. Accolgo quindi con favore la proposta di aumentare la dotazione finanziaria di circa 280 milioni per il periodo 2018-2020, al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi di prevenzione nell'ambito del ciclo di gestione del rischio di catastrofi e potenziare i legami con le altre principali politiche dell'Unione europea in materia di prevenzione e risposte alle catastrofe. Quindi anche per rafforzare la capacità collettiva dell'Unione e degli Stati membri di rispondere alle catastrofi e colmare le lacune ricorrenti ed emergenti in termini di mezzi, in particolare istituendo una riserva specifica di mezzi di risposta a livello europeo, denominata RESCUE. Naturalmente mi preme sottolineare come il meccanismo rivisto debba essere attuato in concertazione e stretta cooperazione con le autorità regionali e locali, che sono quelle che conoscono meglio tutta la topografia e la necessità immediate della cittadinanza. Soprattutto in caso di disastri naturali e che dunque dovrebbero immediatamente essere coinvolte dal livello europeo non appena venga attivato il meccanismo europeo. Per finire una riflessione generale, mi auguro che nel framework della prossima politica di coesione la tematica del dissesto ideologico e più in generale della cosiddetta resilienza ai disastri naturali di vario tipo venga adeguatamente trattata ed inserita come una delle priorità strategiche della prossima programmazione, anche perché è del tutto imprescindibile a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale in tantissime aree continentali già toccate da disastri o altamente a rischio come quasi tutti i Paesi membri. Grazie.